Il libro può essere, come posso dire, un messaggio che si può sempre ripartire, non è una frase fatta, è vero, è così. Scrivere per me è stato sempre uno strogo, sempre scritto, anche quando ero ragazzino. Con le donne ti devi scegliere le scarpe del numero tuo, come dire, scegli quella giusta, è una cosa che mi è rimasta sempre impressa. Magari l'esperienza di qualcuno può servire ad altri. Ho avuto la fortuna di avere due figli splendide, ma non perché, perché probabilmente ho fatto tesoro della mia esperienza di vita, per non ripeti gli stessi errori. Quindi invitiamo anche a comprare il libro di Gino Cortucci, le scarpe del torneo. Grazie a tutti.